Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlo dei miei 5 oggetti che utilizzo di più in cucina. Cominciamo subito! Allora, un oggetto che utilizzo di più in cucina, uno dei miei indispensabili è questo gancio. Questo gancio io lo tengo sotto allo scolapiatti, l'ho incastrato sotto la griglia ma penso come ce l'hanno un po' tutti. Alcuni questi ce l'hanno attaccati a una barretta tipo le barrette di Ikea porta utensili che invece la barretta non ce l'ho e l'ho attaccato sotto allo scolapiatti. Allora, qui ho due cancetti in cui ci metto le due tazze che utilizzo di più in assoluto a colazione, poi ci metto gli utensili, ci metto anche qualche padellina piccolina a scolare, ci metto tutti gli utensili comunque sempre a scolare. Per me è molto comodo, ne ho 4 o 5, considerando che poi in ogni gancio ci si può attaccare più di qualcosa, quindi non solo una cosa. Per me questo è un oggetto molto molto indispensabile in cucina. Il secondo oggetto, scoperto da poco, che all'inizio non conoscevo, è questa clip. Queste sono quelle clip di Ikea, io le ho prese le prime e le ho presi a Ikea e poi le ho presi anche al Tiger, ma costano pochissimo. Queste io ci faccio veramente tutto, ci chiudo i pacchi della pasta, ci chiudo i pacchi dei biscotti, ci chiudo delle bustine, questi sono veramente molto molto utili. Si aprono molto facilmente, ci sono di diverse misure in base a quanto è grande la vostra, non ci riesco, una mano sola, in base a quanto è grande la vostra, riusciranno i nostri eroi? Si, eccolo, eccolo qui, l'ha aperto, in base a quanto è grande la vostra bustina da richiudere, si aprono queste clip e poi si richiudono. Sono molto comode, diciamo che non lasciano passare l'aria e quindi io le trovo veramente utili, sono un oggetto che utilizzo veramente, veramente, veramente tanto. Il terzo oggetto è questo, questo utensile qui, tipo, diciamo scolapasta, sì, ma molto piccolino, è uno scolapasta molto piccolo, ok? Io questo lo utilizzo molto, lo utilizzo molto perché, diciamo che io uso poco lo scolapasta, ma uso più che altro questi utensili, allora questo lo utilizzo più che altro per la pasta piccola, ma io, cioè questo lo uso tantissimo, questo lo uso veramente tanto, per le penne, per le penne, per i ricatoni, per i fusilli, per qualsiasi pasta per scolare le verdure, per scolare le patate lesse, io questo lo uso tanto, giustamente per i spaghetti uso il ragnetto, che è della stessa, identica a questo, solo che è fatta ragnetto, ma utilizzo, cioè questo lo utilizzo veramente, veramente tanto, rispetto a ragnetto, rispetto a ragnetto che giustamente si usa solo per gli spaghetti, io questo lo uso tanto, cioè questo è il mio terzo oggetto che in cucina proprio non può mancare, perché io raramente utilizzo lo scolapasta, cioè proprio è raro. Il terzo oggetto che in cucina è questo, scaldalatte, questo scaldalatte, di queste dimensioni, ecco è grande come la mia mano, più o meno, questo io lo uso per un sacco di cose, ci scaldo il latte, ci scaldo la minestra, ci cuocio la minestrina per i bimbi, ci cuocio la pasta se siamo in uno e in due, qui ci posso cuocere gli spaghetti, ci posso cuocere le penne per una persona, anche per due, ci entrano tranquillamente. Io lo utilizzo tantissimo questo, di queste dimensioni, molto comodo da prendere, non lo so, me lo regalo a mia mamma, ma costerà anche una stupidaggine, però di queste dimensioni io ci faccio veramente, veramente tanto. Senza poi contare che lo uso tanto per i miei bimbi, perché è la porzione esatta per tutti e due, ci faccio la pasta per entrambi, ma se anche dovessi fare la pasta per il mio marito, questo è ottimo, è l'ideale. Perché per una persona basta e avanza, cioè proprio, anche a volte se mangiamo io e mio marito, io in questo momento sono a dieta e ci debbo fare i spaghetti, per me va bene, cioè per noi due basta questo. Questo io l'utilizzo veramente tanto. Terzo oggetto che uso tanto è questa padellina qui. Scusate, è cazzo l'acqua. Questa padellina qui, piccolina, non è molto vecchia, ci avrà un paio d'anni, però è ancora antiaderente, come potete vedere. Questa qui, idem, la utilizzo sempre come il bollilatte, nel senso che, allora, ci faccio le frittate, ci scaldo le cose, ci cuocio, ci ripasso la pasta per tutti e due loro, per i miei bambini, ci ripasso la pasta solo per il mio marito, ci scaldo la carne, ci scaldo... Cioè io con questo ci faccio tutto, questa padellina tutto, anche perché poi è rimasta ancora antiaderente, nonostante io l'abbia lavata 50 volte. Oddio, io il diametro di questa padella non lo so, ma... È tipo in pietra granite, qualcosa del genere, è di quella marca Casaviva, che ce l'ha pure il gruppo Satur, se non sbaglio. Eppure questa ha pagata una scemenza, tipo 7-8 euro, ma io con questa mi ci trovo veramente, 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 veramente bene. Bando alle ciance perché comunque è vecchia, eh, quindi non è nuovissima, però io con questa mi ci trovo veramente bene. Allora ragazzi, questi sono i miei 5 oggetti che io utilizzo di più in cucina, che mi agevolano di più mentre cucino, mentre lavo i piatti. Io con questi, veramente, senza di questi, non so, non riuscirei, perché questi veramente sono gli oggetti che mi agevolano di più quando devo cucinare, quando devo pulire, quando devo sistemare. Io con questi faccio veramente di tutto. Con questi riesco a cucinare, a scaldare, a scolare, a chiudere, a conservare. Con questi riesco a fare tutto. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri oggetti, i vostri 5 oggetti che, come posso dire, che utilizzate di più in cucina. Fatemi sapere se qualcuno dei miei iscritti ha intenzione di fare un tag sui 5 oggetti che utilizzate di più in cucina. E io la posso anche taggare nel, diciamo, sotto ai commenti. Così lei farà un video gemello al mio. Lei e lui, ma soprattutto lei, perché io mi confronto più che altro con le mamme. Allora, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un bel like. Se vi piaccio io e se vi piacciono i miei discorsi, i miei video, iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.